20 anni senza Augusto sono passati in un soffio, un battito d'ali. In questo tempo abbiamo fatto tante cose assieme. Vi dico grazie, grazie per aver capito la necessità che avevo di trovare. Qualcuno con cui condividere una storia importante. Sono parole tue, Rosi, queste di una comunicazione, di una pre-comunicazione che hai dato riguardo ad una pubblicazione che uscirà il 7 ottobre. Le tue parole al vento. Tant'altro ciao, Rosi. Ciao, Pietro. Con te c'è Marco, di cui non ricordo il cognome. Marco Bezzi. Bezzi. Ciao, ciao Marco. Tu stai raccontando in questa pubblicazione un Augusto che forse dobbiamo ancora scoprire, che non conosciamo. Ma tu forse sì, ma molte delle persone che mi chiedono appunto di scrivere di lui, no, non è così perché Augusto il cantante era qualcosa, sì, già di veramente sanguigno. Augusto era una persona che comunicava anche con le proprie emozioni con il canto. Ma credo che attraverso le azioni, attraverso il quotidiano e tutto quello che succedeva insieme, abbiamo fatto delle cose bellissime. Quindi mi sembrava bello di poterlo trasportare su un libro, anche se io mi sono sempre resa conto di non essere mai stata una scrittrice. Mi piace scrivere, ho trovato un amico che mi aiuta a farlo e che mi conduce con grande pazienza a vedere che cosa possiamo raccontare in questo libro. E quindi mi è sembrata una cosa bellissima di poter fare questo omaggio ad Augusto nei vent'anni. Ecco Marco, tu, anche tu immagino che prima di lavorare tu sia stato coinvolto da un punto di vista emotivo e passionale dai racconti di Rosanna. Allora, sicuramente i racconti di Rosanna, allora intanto non è lavorare, quindi io non mi sento al lavoro, perché questo libro è essenzialmente una passione. Intanto sono coinvolto come amico e quindi sono molto coinvolto come amico e poi davvero esce un qualcosa di diverso dall'intensità del canto e dall'intensità. Allora, Augusto non era un uomo che si prendeva così sempre sul serio come magari si può pensare solo vedendo l'esibizione, ascoltando un pezzo magari impegnato, magari di carattere. E qua nel libro esce l'Augusto inedito, quello simpatico, quello divertente, quindi è meraviglioso. Poi c'è un piccolo aneddoto che io vorrei che Rosanna raccontasse che è legato al titolo. Le due parole al vento. Sì, perché noi ogni tanto ci troviamo per guardare i testi e abbiamo detto però il titolo, il titolo è una cosa importante, una cosa che ti deve comunicare qualcosa immediatamente. Allora abbiamo pensato facciamocelo dire da Augusto e come meglio? Abbiamo messo su un vecchio... Abbiamo preso proprio un vecchio giradischi. Un vecchio giradischi a Eurofond degli anni Sessanta, vecchissimo, di quelli che regalavano con il Reader Digest, quindi storico. E abbiamo messo un disco, un 33 giri, vecchissimo e rigato, come devono essere, vecchi e rigati, dei Nomadi Cantano Guccini, che è storico, lo conosciamo tutti. E poi Ophelia, il primo pezzo... E abbiamo detto buttiamo giù delle idee. Ci siamo trovati separatamente. A tavola, a tavola, uno seduto da una parte, uno dall'altra, con le torte che lei porta sempre centrali al tavolo. Con un guai semi-copy come regola di base. Con la torta al centro, perfetto. E quindi cosa è successo? Abbiamo scritto in contemporanea, quando Augusto ha citato questa frase, le tue parole al vento, sia io che lui abbiamo scritto le tue parole al vento. Contemporaneamente. Contemporaneamente, abbiamo detto, questo è il titolo. Beh, io aggiungo, non si perdono nel tempo, andando contro il testo di Guccini, di Ophelia, che là dice, si perdono, quindi non si perdono, ma saranno tutte racchiuse qui, in le tue parole al vento. Di cui, ricordiamo, uscirà l'edizione completa il 7 di ottobre. Esatto. Mentre c'è un'anteprima che... Un piccolo promo con tre racconti di questi aneddoti, tra i quali l'uomo di Monaco, di questo episodio che è accaduto in Germania, dopo aver visitato un campo di concentramento, Augusto ha avuto l'ispirazione per scrivere l'uomo di Monaco. Poi ci sono altri due episodi simpatici dove... Chiuderei lasciando un po' di suspense, leggendo solo il titolo del primo di questi racconti, perché secondo me... Dei capitoli, la serie, gli incontri, mamma ti presento Augusto. Quindi, immaginate bene, cari amici, che sarà qualcosa di molto curioso, molto interessante, spiritoso, serio, insomma, ci muoverà e ci scuoterà le anime ancora una volta. Grazie Rosi, grazie Marco. Grazie a te. Le tue parole al vento, Rosana Fantuzzi e Marco Bessi. Grazie. Grazie.